Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Whites e siamo qui oggi con un nuovo episodio della nostra carriera sul MyGM, siamo con i Boston Celtics come sempre e stiamo affrontando le finali di conference, finali di conference che ci vedono contro i campioni NBA tra l'altro, i Chicago Bulls che avevano vinto l'anno scorso il titolo in finale contro gli Oklahoma City Thunders, quindi gara 1 subito al Boston Garden perché comunque avevamo il vantaggio del fattore campo visto che avevamo il record migliore di tutta la Lega nella stagione regolare. Fattore campo che comunque ho notato che non è che sia importantissimo come nella realtà, nella realtà le squadre che giocano in casa sono avvantaggiate solitamente, qui su NBA 2K14 non è che si nota tantissimo tra giocare in casa e giocare in trasferta, forse la precisità di tiro leggermente più alta ma poca roba davvero. In ogni caso Chicago è un'ottima squadra, ha Derek Rose che è un giocatore spaziale su questo gioco, probabilmente uno dei migliori che potete affrontare, poi ha Noah, Bousa, quindi ha tanti tanti giocatori che possono far male e infatti in gara 1 vanno sopra fino al 78-67 quindi più 11 e raggiungono anche il più 13 se non sbaglio. Poi per fortuna visto che noi non è che abbiamo giocatori scarsi come Lebron James per esempio, un tizio con solo 99 di valutazione, riusciamo a rimontare anche con un po' di fortuna come in caso di questo passaggio tutto campo che mi porta addirittura sul più 1. Poi inizio a difendere seriamente anche se comunque gli errori classici li faccio sempre e quindi la partita bene o male resta a contatto. Rose è uno che non molla mai, qui è stato davvero dura fermarlo, guardate qui comunque non avevo fatto una difesa pessima però è riuscito a segnare comunque. Devo dire che questo è un bug che avete appena visto sul più 2, cosa ha fatto Derek? Stava cercando di fare la virata, ha notato che perde palla molto spesso come in questo caso qui, anche in questo caso John Wally riesce a rubare palla e Bradley si infila e va a recuperare palla in contropiede e va a segnare. Si chiude comunque la partita su questi due libri di Jabari Parker, siamo arrivati alla lotteria finale dei tiri libri sul più 3 e più 4 quindi ho riuscito a tenere il vantaggio grazie sia a un po' di fortuna sia a un po' alla bravura e ai tiri liberi. Quindi si vince gara 1, 29 punti, 8 rimbalzi per James, 23-12 assist per John Wall, quindi una buona prestazione di squadra contro i Chicago Bulls, quindi la prima almeno siamo riusciti a vincerla. Seconda partita, mi scuso già perché alla fine non c'è perché si è corrotto il file del legato, quindi vi devo dire che abbiamo perso, abbiamo perso abbastanza nettamente mi pare di una decina di punti. Chicago è una squadra veramente dura da affrontare, ho detto, è solida, ha tanti giocatori che te la possono risolvere, paradossalmente è una panchina molto buona con tanti tanti tiratori da 3 come Snell e altra gente che davvero da 3 mi ha fatto molto male in questa gara 2 quindi dobbiamo volare a Chicago sotto nella serie, siamo sotto, ah no scusate che siamo sotto, siamo 1-1 nella serie quindi vedremo come si evolveranno le finali della Eastern Conference, spero di riuscire a portare a casa e volevo chiedervi se io al termine della stagione do le dimissioni da General Manager, posso scegliere in che squadra andare, saranno tutte disponibili? Me lo fate sapere nei commenti perché ho una mezza idea di cambiare squadra al termine della stagione, quindi fatemelo sapere, noi ci vedremo presto, ciao a tutti!